Anche quest'anno, domenica 11 e lunedì 12 dicembre, a San Damiano d'Asti, si terrà la storica Fiera del Cappone, organizzata per la prima volta nel lontano 1947. L'evento è stato presentato a Palazzo Lascaris nel corso di una conferenza stampa. Momenti clou della fiera, che si svolgerà in Piazza Libertà, saranno l'esposizione e la vendita dei capponi, con musica, intrattenimento, degustazioni e folklore.